ciao a tutti e bentornati con una volta su indie gameplay ita oggi siamo su void bastards un gioco che mi ha dato che mi ha tornato ocean caster e che ringrazio tantissimo questo credo questo voice bastard credo sia uno degli indie più curiosi più interessanti che avrebbe visto finora costa 29 99 ed è uscito a settembre 19 settembre del 2019 quindi già un annetto buono abbondante che è uscito ed è un log like che per certi versi mi ricorda un pochino quelle che sono le meccaniche che abbiamo visto in faster than light anche se il gioco è tutt'altro ha uno stile grafico che mi ricorda molto tra i dc che un gioco uscito in remake di recente ma in realtà è un gioco di inizio anni 2000 iniziamo la nuova partita lo giochiamo a difficoltà normale niente iron man niente di niente lo iniziamo così ed è fatto modello fumetto dove anche all'interno della partita vedremo gli effetti proprio dei passi insomma scritti il gioco in inglese non l'han tradotto finora non so se lo faranno ma dubito anche se magari qualche utente qualche gruppo di traduzione magari un domani lo farà non che sia necessario diciamo un gran livello di conoscenza piuttosto non è uno di quei giochi in cui è vitale seguire la storia insomma però siamo nella sargasso nebula 283 anni luce lontano ok lo stile grafico è questo qualsiasi sembra che tu sia rimasto senza munizioni infatti non ce ne sono anche possiamo fare richiesta all'arc all'arc ma il ritorno all'arc è attualmente proibito ok dobbiamo tenere la line printer e quindi ottenuta quella avremo modo di la line printer probabilmente qui noi siamo qui questa è la nave spaziale che sta viaggiando al momento e quando entriamo in questa schermata siamo in pausa però ecco diciamo che è carino il fatto che comunque adesso poi ve lo farò vedere perché è previsto che noi moriamo ora quello è un addetto delle pulizie ok mi sono già perso mamma mia ok sblocchiamo il pannello vedete che dobbiamo attendere diventare verde infatti eccola qua questa è la cupolona della nave dovremmo essere sia al centro allora la cosa che noto nel movimento che è fluido talmente tanto che da anche potrebbe dare anche un po' di fastidio allora salmon supplement ok possiamo chiedere i fornimenti ora con questi tubi pneumatici ok tre giorni per l'arrivo delle dei rifornimenti ovviamente per tre giorni abbiamo l'otto per cento di possibilità di sopravvivere calcolando che c'è anche quel tubo rotto lì e sta disseminando roba in giro soprattutto stanno volando pezzi frammenti di non so cosa posso tirare anche gli altri no mi pare evidente vabbè dobbiamo resistere tre giorni cosa che non faremo sicuramente però da quello che noto qua posso chiedere un'autorizzazione no perché mi chiede 15 merits che dovrebbe essere una valuta infatti lo vedete sulla destra ne abbiamo zero vabbè andiamo di là allora che di là di qua che dovrebbe esserci una porta aperta non abbiamo munizioni quindi si delle juve ci sono di là fa bene oh c'è anche quello quello lì quel tizio grosso lì brutto eh beh alla fine siamo già arrivati alla stanza quindi ok c'è ci sono delle regolazioni da fare per evitare di essere inceneriti quindi sono queste ok ci muoviamo un po' alla matrix qui con signor anderson il telefono insomma vabbè io sono poi un ma veramente fluidissimo mi perdo via buoia mondo luta luta abbiamo trovato qualcosa aia cos'è questo abbiamo trovato una penna stilografica uh siamo già arrivati in fondo fantastico e siamo nella stanza davanti no dove siamo in uno sgabuzzino oh abbiamo trovato dei merit ah ok dobbiamo tornare qua andare là e uscire ok quindi buoia mondo acqua no qua direi di no perché non c'è dentro niente cioè posso andare da un'occhiata ma credo che no infatti ci siamo appena andati no facciamo la corsa va che cosa ci sta facendo a pezzi con la torretta adesso vediamo di aprire anche lì arrivederci sta arrivando un vascello minaccioso una evacuazione rapida si sono pienamente d'accordo dobbiamo andare di là ok lo steve di là cioè è pieno di fogli che stanno volando in giro uh che è successo ok vabbè in pratica non stiamo vedendo ancora niente del gioco perché ovviamente questo è un tutorial ho voluto farvi vedere tutto proprio dall'inizio di arrivederci no sono morto a un passo dalla fuga eccellente le ritorno al void ora è possibile nota per te stesso ok praticamente noi moriamo vedete vi è ci viene sganciato lo zaino siamo una sorta di cliente noi siamo scaduti quindi lo zaino che diventa una sorta di robottino deve essere assegnato qualcun altro e quindi viene generato un altro cliente che sarà la nostra prossima vita e ovviamente loro hanno messo la nota di prossimo diamogli delle munizioni perché quello che prima non ce l'ha fatta lo zaino sta guardando la penna recuperata questo per sta sta significare il fatto che ci porteremo degli oggetti che abbiamo trovato quando siamo morti ok il void arc il trasporto questo il trasporto il vascello del trasporto dei clienti ok la violazione dell'ohs è risultata una prematura fine della vita una situazione di fine della vita ok reclutando sta reclutando una sostituzione del cliente con carburante cibo merit e pallottole ok in sintesi ecco vedete adesso viene generato un nuovo cliente viene generato con questo fluido e poi viene bagnato con l'acqua e quindi idrata viene idratato il cliente in pratica quello che dovremmo tenere d'occhio sono queste informazioni praticamente il cibo i merits che potremmo usare nel corso delle mappe e la capacità di salto ovviamente la vita le munizioni insomma le altre cose benvenuto al tuo seminario di induzione cioè di approccio insomma sono state caricate a bordo delle persone non autorizzate in operative la tua missione l'attuazione è quella di rendere il viaggio luce insomma il motore a curvatura di nuovo operativo ho bisogno di vedere la tua carta del cittadino per autorizzare il riavvio ci hanno distrutto la carta ok dovremmo trovare le cose per farne una nuova va beh comunque abbiamo bisogno di una line printer e una carta di identità va bene quando avrai le parti puoi assemblarla alla steve workbench ok perfetto questo proprio il tutorial iniziale in cui poi andando avanti giocando morendo ripartendo andremo a sbloccare varie cose di crafting ok quello che possiamo fare ora vedete possiamo andare a viaggiare spendendo dei punti in questo caso possiamo andare a viaggiare e bruciamo uno di cibo e uno di fuel quindi abbiamo tre giorni ne resteremo con due e uno di cibo e uno di carburante scusate consumeremo un salto ma non mi interessa perché io voglio voglio vedere la scusate voglio riposarmi non posso no andiamo qui siamo già qua no andiamoci andiamoci dai vediamo vedete sono rimasti due giorni e il carburante è finito quindi non potremo andare da nessuna parte mi ricorda faster daylight per questa questione qua di di questa mappa in cui poi ci si muoverà possiamo mangiare cibo quindi recuperare la vita oppure doccare facciamo il docking equipaggiamo l'arma con 48 munizioni in questo caso ci sono state fornite e andiamo questa è la mappa anche qui ricorda moltissimo quella di faster than light abbiamo una descrizione di quelle che sono le stanze noi sbarchiamo qui questa produce ossigeno qui c'è ci sono dei loot probabilmente nella sala di comando qua ci sono dei sistemi sicurezza che dovremmo spegnere e qui il tunnel di lancio va bene insomma iniziamo siamo sbarcati qua possiamo tornare allo steve ok qua ci dice praticamente i cittadini all'interno per colpa della nebulosa che ci sono che c'è qua intorno hanno assunto una forma infatti vedete i passi quando camminano sentite step 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 ok ben già consumato 3 proiettili e abbiamo perso 8 di vita e dobbiamo andare allora in pratica cosa si dice dobbiamo andare all'elma quindi dobbiamo sempre andare a sinistra all'elma possiamo scaricare la location di tutte le loot che c'è nella base io sento dei passi comunque stomp 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 c'è quel tizio di grande ok lui ci dice che adesso tentare di combatterlo finirà sicuramente in fallimento quindi non lo faremo lo lasciamo in pace ci acquattiamo c'è un tunnel qui sotto che mi porta al tunnel di lancio ma non me ne frega niente perché devo andare di là mi scusi elma mi scusi eh adesso vedete che poi è talmente veloce nel muovere che scusate faccio un lock ok così almeno non entra ora nell'elma vediamo se c'è qualcuno in alto vedete anche l'ossigeno quindi dobbiamo andare anche nella stazione dell'ossigeno e poi a ricaricare ricaricare l'ossigeno perché abbiamo solo 6 minuti allora vedete che in questo caso è stato caricato tutto il loot che abbiamo e abbiamo un loot proprio qua vicino qui ma non lo vedo eccolo lì sotto c'è il cassetto abbiamo preso del cibo che ci sarà molto utile ora andiamo fuori di qua andiamo a risbloccare la porta e lì c'è del loot ma non mi interessa usciamo e andiamo subito a destra dove c'è del loot acqua si c'è qualcosa ok infatti c'è un armadietto recuperiamo dobbiamo andare a ricaricare l'ossigeno almeno così siamo sicuri siamo tranquilli quindi di là dovrebbe essere quella lì la stazione di ricarica del carburante dell'ossigeno sette minuti ok acqua possiamo con 10 merite ne abbiamo 67 io lo spendo perché dovremmo poter ok infatti il città ricevuta non posso prenderla no ricarichiamo 15 minuti quindi abbiamo raddoppiato volessimo aumentarlo ancora no in questo caso non si può fare quindi va bene dai siamo messi bene dove andare avanti dobbiamo andare a trovare il carburante perché in questo momento siamo bloccati quindi bisogna andare di là dove c'è il motore dove ci sono i motori curvatura ricorda anche un po' ship breaker per la struttura delle navi il modo in cui si cammina magari ok qua c'è il carburante l'abbiamo recuperato come vedete è godibilissimo anche in inglese niente da dire dobbiamo andare al tunnel di lancio adesso a recuperare l'altro loot che ci manca tanto abbiamo 15 minuti quindi 14 adesso quindi non dovrebbe essere un grosso problema questo gioco tra l'altro e lo dico ormai per tantissimi giochi si presta in modo ottimale anche per un live allora intanto andiamo qua sotto vedete che ruota devo abbassare la sensibilità del mouse perché mi volto di colpo e allora pick up cos'è batteria 15 a tanti volt 15 volt qua vabbè classica scena in cui buttiamo fuori tutto ok questo è il tunnel ma che poi il tunnel in realtà potevamo entrare sparagli a quel tizio lì possiamo usarlo due volte ancora ma non so perché dovrei qua sotto c'è un robottino che dovrei poter allutare ok abbiamo recuperato un po di roba il loot l'abbiamo preso quasi tutto c'è qualcosa ancora dall'altra parte del tubo quindi andiamo a vedere e poi ce ne andiamo lo steve qua no pirla che sono eh sì c'è il robottino lì così almeno ho recuperato tutto ah ci sono munizioni un'altra batteria prendo anche questo che sono batterie batterie anche questi bosch bosch coso eh anche qui batterie io prendo tutto perché il loot qua è importantissimo anche qui c'è del cibo fantastico allora adesso dove dobbiamo andare attraversare questa stanza in tutto il perimetro evitando di farci uccidere dal tizio lì e fare attenzione alla vita perché la vita è importante perché ce la portiamo anche nei livelli dopo quindi cibo anche qui ok arrivederci va bene abbiamo recuperato un po di roba poi anche qui ricorda anche si sixty seconds allora ben recuperato batteria doppia tripla a e la triangolare una poi la buzz box 3 di carburante 3 di cibo molto bene sto metti via tutto vedete tra i salti ben cinque giorni cinquanta sette merizzi quindi bene possiamo che riciclare le batterie recycle le ricicliamo e otteniamo dei materiali dei vaults per costruire ok workbench ora la workbench possiamo costruire il bush worker una volta armato esplode quando gli nemici si muovono vicino ah possiamo craftarle così ok perché qua abbiamo le parts le parti che abbiamo recuperato le parti vedete che poi possiamo anche accumulare delle parti per poter fare quell'oggetto l'identity card e ci manca un sacco di roba della verità no non la voglio fare questa non mi interessa no non la uso va bene allora vedete che in questo caso perché la nebula è un vuoto desolato riempito con dettagli vari persone non autorizzate sono entrati a bordo ok cioè in sintesi cosa posso fare riposarmi quindi riguadagnare 16 che mi mancano per raggiungere il massimo e e tornare al massimo oppure fregarmene questa location è stata già ultimata quindi possiamo muoverci alla WCG Therapy Brigg Bowen oppure alla ah sempre questa e qua ci dice che cosa potremmo trovare tourist Juve qua c'è questo tizio qua ma in realtà qua me la da abbastanza pericolosa come cosa quindi possiamo pensare di fare jet lì ci consuma uno di carburante in questo caso si va a fare dock arma non abbiamo altri oggetti quindi andiamo questa nave bella grossa però allora da qua si va via diamo un'occhiata cosa c'è cioè poi secondo me mette meno ansia il fatto che eh sia fatto così cioè ma alla fine eh è anche molto in base all'abilità e meno livello gestionale e meno livello gestionale anche pensando un faster than light che mi metteva molta ansia allora praticamente dobbiamo andare di qua a un turista mi fa male il turista sì il turista mi fa molto male il turista esplode comunque devo andare lì e vedere quel materiale genetico lì perché mi possono dare dei tratti remove smoker boia mordo Juve assalto della Juve ok allora qua mi da tre tratti remove smoker che non so che cosa sia o che ci siano dei mostri che si chiamano smoker magari can see hidden star among roots le vie le vie nascoste nella mappa oppure mostri pericolosi luoghi pericolosi io prendo questo che mi mostra i luoghi pericolosi mi fa un leak diciamo di quello che è questo si può fare qualcosa qui no non è neanche cioè stupido io andarci sopra ma allora di qua stiamo andando in questo stanzino perché di là sembra esserci qualcosa un lubrificante di qualche tipo andiamo a vedere cosa c'è dentro si si scivola però non si può fare nulla null'altro quindi niente qui dentro non c'è niente sembra esserci qualcosa di nascosto qui dobbiamo andare a prenderci un po' di ossigeno adesso ah ma quello è un portale quello è un portale che genera quei mostri lì adesso ho capito cos'è allora facciamo una roba oi 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 si è certo che sono un mago io a sparare ok facciamo una roba bloccalo subito siamo quasi morti boia mondo ok allora qua è bloccata quindi sappiamo che lì non dobbiamo più entrarci qua recuperiamo altri oggetti ovviamente io sto andando un po la cerca in modo sbagliato perché dovrei guardarmi intorno adesso è lì dentro vedete ha generato qualcun altro allora all'elma si va e si recuperano i piani di dove sono tutti gli oggetti quindi andiamo a vedere c'è qualcuno non so neanche munizioni ne abbiamo ancora un po quindi va bene così però ok scarica gli oggetti ma posso addirittura spendendo 10 di merits scaricare la location anche dei nemici mamma mia quanti si dai fammelo fare tanto stiamo provando a vedere che cos'è ok abbiamo l'enemy location quindi tecnicamente dobbiamo andare subito a ricaricarci l'ossigeno che qua quindi quindi e si mancano quattro minuti io direi che che poi tra l'altro io ho paura che non mi abbia tenuto il scusate il potenziamento che gli ho preso prima per queste voci così mi fanno tra io non arrivo sul binario mi fanno anche un po d'ansia vabbè comunque secondo la mappa qua non dovrebbero esserci nemici l'ho 2 dietro questa porta quindi risolviamo il problema ci sono nemici qua dentro si c'è qualcosa là in fondo ci muoviamo silent no non c'è nessuno qua è di là però o è nel muro o è lì secondo me è lì eh infatti cacchio è quel coso lì warp at sea obscuring cloud eccolo lì ok demolito infatti non c'è più mi darei solo alla larga da quel coso lì vabbè riempiamoci l'ossigeno 7 minuti qua si spende ancora 10 minutes per avere più punti ma si dai lo faccio ancora così almeno me ne da 15 giro un po' più tranquillo ma dobbiamo andare di là c'è qualcuno qui e non siamo messi benissimo di vita però qua c'è qualcuno che adesso non è più un problema qua c'è del loot apre la porta qui ricordo che dobbiamo craftare la carta di identità come ci diceva zap charges questo è l'air lock quindi un'altra uscita e di là ci sono altri due nemici andiamo di là layer lock direi che non è il caso di apparirlo per dio volevo dare un'occhiata ma non c'è neanche modo di apparirlo per sbaglio layer lock c'è qualcosa qui ma ci sono anche due nemici di là che mi guardano quindi adesso io vado e vedo di sistemare il turista merda o meglio dannazione boom tutti e due andati loot qui all card qua un altro loot e qua abbiamo finito tutto c'è qualcosa qua che è un dispenser made for junk cioè praticamente noi qua diamo dei dati e prendiamo i merits va bene qua c'è del carburante cosa molto importante da prendere nemici non ce ne sono però sembra esserci un bel loot bello grosso qua delle parti faster than light nozzle quindi una parte del motore continuiamo di qua prendiamoci il carburante ok ricarico l'arma non avevamo più molti colpi e quindi adesso completiamo il giro ce ne andiamo qua non c'è nessuno ho spreso bene i merits mostrando dove erano i nemici così giriamo proprio più tranquilli ok quasi cos'è power is on power is on ah non posso disattivarlo ok perché ci saranno che navi in cui sarà tutto disattivo infatti questo è il generatore non avrebbe senso spegnerlo questo è hub ok non è più un problema questo hazardous qua ah ok questo in caso di radiazioni quindi in quel caso lì si va a e c'è qualcuno lì arrivederci ok ce n'è un altro comunque dentro di nemico tap 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 si sente arrivare scusi perfetto un loot lì dietro non c'è più nessuno no si c'è qualcuno di là ma adesso ci pensiamo dato che dobbiamo andarcene c'è quella nube lì che ci sta dando un po' fastidio qua c'è un caffè rinvigoriente bevi il tè ok la nube lì scusa ma se io la schivo ok qua dovrebbe qua ce ne possiamo andare ma in realtà io do voglio dare una bottarella quello lì in modo da eliminare e prendermi il loot qui dentro ok poi veramente poche volte mi è capitato ma è veramente talmente fluido da essere quasi fastidiosa questa velocità così immagino in video poi eh no qua non si può fare niente cioè immagino che non sia neanche bloccabile quello quindi quindi niente non c'è niente da fare comunque 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 ce ne andiamo ok voglio dare un'occhiata a vedere che cosa abbiamo recuperato e beh dai all cards le carte forate in pratica sono sto quindi metti tutto in inventario abbiamo un bel po' di salti da fare un bel po' di giorni di sopravvivenza abbiamo preso anche cose in più munizioni in più ricicliamo tutto e otteniamo materiali vedete abbiamo recuperato volta slug data i bio ci servono per fare la carta di identità vedete che poi per fare la carta possiamo fare lo stapler che spara sei di quelli staples possiamo graffitarlo graffiamo e poi si sbloccano altre cose perfetto possiamo fare anche questo e facciamo anche questo almeno il gioco ci scassa la minchia di farli non c'è dubbio che tu ti stia chiedendo cosa succede quando muoio non preoccuparti altri clienti prenderanno buon uso degli oggetti che tu hai costruito ok ok ma questo lo avevamo già detto la star map dovrebbe segnalarci quello che non le vie segrete ma gli ambienti pericolosi almeno per andare qua no ma voglio capire eh si ci dice sicurezza disattivata eh si qua abbiamo tutti i bonus che ci vengono segnalati riguardo alle varie cose bene ragazzi questo è la voicebusters un indie veramente veramente bello niente da dire ben ispirato a livello grafico mi piace tantissimo è uno shooter che comunque si lascia giocare è single player eh non costa poco perché costa se non sbaglio 29,99 su steam dire che li vale beh se amate i roguelike amate lo spazio amate questo tipo di grafica io credo che vi terrà comunque legati per un po' c'è anche un DLC che è uscito da poco eh che costa 3,99 euro 4 euro che aggiunge nuovi contenuti eh secondo me è un gioco da giocare magari se non siete anche solo minimamente appassionati magari aspettarlo scontato però per un appassionato cioè mi sembra un gioco veramente fatto fatto molto bene ovviamente adesso io attendo i vostri parieri qua sotto nei commenti e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay alla prossima e ciao ciao